Seduta e invariata per piazza affari, mentre si muovono in calo le principali borse europee e scambiano in territorio negativo Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem, più 2,16%. Le peggiori performance si registrano su Amplifon, che ottiene meno 2,55% Sul mercato di Chicago, il petrolio, in aumento, più 0,92%, raggiunge 87,68 dollari per barile Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 4,1% su base annuale, mentre si registrano 0,8% su base trimestrale In Giappone domani i mercati sono in attesa del PIL Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle richieste del sussidio di disoccupazione, previsto sempre domani nel pomeriggio Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.035,5 punti